Questo programma è offerto da Tecnocampus Mercoledì 17 aprile, buongiorno da Teleprima benvenuti anche oggi a questa nostra rassegna stampa e come ogni giorno offerta da Tecnocampus anche questa mattina vediamo tutti i fatti in primo piano a partire dalle testate nazionali per poi scendere nei particolari ed andare a vedere proprio i fatti che ci riguardano più da vicino ossia quelli inerenti alla regione Campania in particolare un focus sulla provincia di Caserta ma cominciamo subito a vedere quelli che sono i fatti dalle testate nazionali e apriamo questa mattina con la prima pagina del Fatto Quotidiano e vediamo che si parte dall'alto nell'ultima seduta della legislatura l'Europarlamento approva la direttiva per proteggere chi rivela scandali ma Assange che l'ha ispirata è in manette ed ancora si parla di europei candidati ad matteum della Lega le liste di Salvini inquisiti riciclati e due amici del mare l'indagata Bonfrico Bonfrisco scusate che gli cede il seggio di deputata vari impresentabili al sud e quelli del Papete Beach e infatti presentati questi nomi per le europee invece di esponenti di partito si trova un fritto misto di parenti e sodali tutti ruotano attorno al capo l'unico valore aggiunto che al momento il carroccio può esibire e vediamo ancora lo sfogo dell'ex Borghezio Furente leader mi ha fregato lo slogan e ora mi rottama e doppia casacca l'uomo di Del Rio al servizio di Gavio il concessionario nelle autostrade intanto vediamo che cosa accade nel nostro governo Trenta Furiosa, Conte Alcolle per quale vicenda lo vediamo subito guerra in Libia e rissa in Italia Matteo si crede premier arriva l'alt di Di Maio e ancora nella parte centrale della pagina scandali Umbria, Marini costretta alla resa altri guai PD a Roma e in Calabria la governatrice si dimette imputata alla campana e indagata alla Bruno Bossio dopo la Sanitopoli regionale salta infatti la giunta la deputata campana a giudizio per falsa testimonianza su mafia capitale chiusa l'inchiesta sui dem calabresi e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano dietro il caso Gozzi e San Marino addio al paradiso fiscale restano gli scandali e ancora vediamo dopo il sì a Sassari la Cassazione ferma le chiamate Skype per i mafiosi al 41bis e vediamo ancora una notizia in primo piano proprio da questa pagina del Fatto Quotidiano una notizia che già a tempo fa ci ha sollevato tantissime polemiche ovviamente si parla dello stupro presunto stupro in Circo Vesuviana e soprattutto si parla dei presunti colpevoli che sono stati scarcerati e adesso la procura è contro le tre scarcerazioni e infatti questo è proprio il titolo di prima pagina ancora vediamo gli altri fatti in primo piano sono stati i sovranisti anzi no i musulmani fermate quelle metafore insomma questo è quello che viene raccontato in relazione al rogo di Notre Dame a Parigi il primo allarme ignorato infatti quello che viene ovviamente detto a gran voce che nei primi 23 minuti da quando sono stati chiesti appunto i soccorsi per questo campanile in fiamme la situazione si è prestata subito inerme infatti i soccorsi non hanno preso in carico la situazione l'hanno lasciata quasi così come se non ci fosse effettivamente alcun allarme e quindi sono passati dei minuti importanti per poter evitare il peggio e il nuovo tetto non sarà in legno questo è il primo punto che viene già sancito all'indomani appunto del rogo a Notre Dame e ancora ci spostiamo sulle altre prime pagine dei quotidiani nazionali andiamo a vedere Libero cosa racconta in questa mattina e vediamo che in apertura di pagina ci sono gli sbarchi non ne vogliamo più Macron chiude i confini facciamo la stessa cosa Parigi blinda le frontiere con il nostro paese teme arrivino terroristi da Tripoli e Salvini conferma sono in 500 da suicida aprire i porti Di Maio intanto però non ci sta e ancora vediamo Toninelli mai visto uno del genere taglia fondi ai treni dei pendolari e spalanca le porte ai migranti e intanto per quanto riguarda l'Umbria Marini travolta dall'inchiesta ne ha combinate di tutti i colori e si dimette adesso la presidente Dem e intanto andiamo a vedere nell'editoriale di Vittorio Feltri soccorsi da dilettanti lezione da Notre Dame i francesi sono peggiori degli italiani è noto noi italiani acceliamo nell'arte dell'autodenigrazione ogni volta che accade un incidente una sciagura naturale un disastro qualsiasi ci abbandoniamo alle critiche verso le autorità d'altra parte siamo noi ad aver inventato lo slogan più diffuso piove governo ladro che sintetizza il pensiero corrente il più comune e sentito e i cittadini del nord ce l'hanno a morte con la gente del sud che ricambia il sentimento gli operai sono in eterna polemica con gli imprenditori i quali dipingono i loro dipendenti come sanguisughe insomma una realtà che viene raccontata appunto in questo editoriale come una semplice e pura critica critica che viene fatta in maniera denigratoria proprio dalle diverse categorie di persone ovviamente qualora invece si racconti di 23 minuti di ritardo per quanto riguardano i soccorsi e comunque l'emergenza che ha colpito Notre Dame allora in questo caso probabilmente tanta polemica e soprattutto tante chiacchiere forse sono solamente fittizie ancora vediamo nella prima pagina di Libero nella parte bassa andiamo a vedere cosa succede ai grandi imprenditori questo si chiede appunto Libero questa mattina Confindustria Namatti più IVA e patrimoniale no alla flat tax sia l'aumento dell'IVA e della patrimoniale commentando e commentano proprio sulle pagine del Corriere della Sera le notizie la scorsa settimana sugli apprezzamenti a Luigi Di Maio sembra uno di noi Vincenzo Boccia se l'è presa con i giornalisti che appunto dicono dovrebbero cambiare mestiere ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano ci spostiamo adesso su Il Giornale e nella parte centrale della pagina vediamo proprio l'incendio di Notre Dame titola così il segno della croce il crocifisso di Notre Dame ha resistito al fuoco infatti vediamo il crocifisso e le macerie intorno e intanto così il rogo di Parigi ha riacceso la fede preghiera in strada nella Francia laica e infatti in ginocchio come devoti medievali e alimentati appunto dalle catacombe insomma sembra quasi che questo evento abbia riacceso scusate il gioco di parole proprio l'intenzione di stringersi attorno alla propria cattedrale anche in un segno di preghiera che molto spesso era proprio stato dimenticato e allora tutti a pregare per questa struttura ma in realtà la preghiera grande dovrebbe essere quella di ringraziamento proprio perché nessuno si è fatto male e ancora vediamo cosa non ha funzionato il vero nemico la nostra sciatteria dice appunto questo quotidiano oggi e i soloni da salotto i deliri di Saviano pensate ai migranti e intanto vediamo nella parte sinistra della pagina l'allarme conti pubblici il governo ha mentito aumenta l'IVA e infatti questo è quello che racconta Antonio Signorini oggi è impossibile a questo punto evitare l'aumento dell'IVA ed è questo che temiamo un po' tutti ed è questo che probabilmente vedremo nei prossimi periodi e intanto in arrivo terroristi Salvini chiude i porti i militari si ribellano e l'allarme immigrazione diventa sempre più forte e ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali vediamo sempre su questa prima pagina che si dimette la governatrice PD sinistra al voto fra gli scandali scoppia la bomba ombria e intanto per quanto riguarda lo sport eccoci qua verso la semifinale Champions maledetta Juve-Ko passa l'Ajax e ancora nella parte destra della pagina ancora sempre per quanto riguarda Notre Dame il senso dell'originale la chiesa rifatta copia senza anima e nella parte bassa della pagina quella che viene definita proprio come la profezia e quindi i misteri di Parigi torna infatti Nostradamus tra profezie ma anche tante bufale e ovviamente questo è quello che scatena sempre qualsiasi evento ovviamente la paura del incombente e soprattutto le credenze che sembrano sempre essere molteplici e probabilmente prive di fondamento ancora vediamo il tempo cade la regione rossa di vergogna dice in questa prima parte il tempo si dimette dopo l'inchiesta sulla sanità il presidente PD dell'Umbria Catiuscia Marini da 49 anni la comandavano i comunisti e i loro eredi si voterà in autunno Lega intanto in Pol e ancora vediamo nella parte centrale scatta la gara di solidarietà per ricostruire Notre Dame e intanto è scontro in Italia torniamo proprio in Italia sulla tv pubblica Lega e Grillini se le danno pure sulla Rai e nella parte bassa della pagina giù dal quinto piano otto anni è gravissimo dramma alla storta fatale un momento di distrazione dei familiari piccolo è ricoverato pensate un po' con fratture multiple ed ancora sempre nella parte bassa ancora guai per la metropolitana maledizione scale mobili ferme anche a piramide ed ancora lui è Batman lei Wonder Woman ora tra Salvini e Laraggi volano botte da supereroi insomma anche questa testata ne approfitta per giocare sui titoli e soprattutto utilizzando i supereroi quasi come se fossero un gioco di prima classe e ancora vediamo nella parte bassa della pagina Totti chiama Conte alla Roma l'impegno dell'ex capitano per convincere l'ex CT a dire sì ai giallorossi e ancora ci spostiamo su un'altra pagina di questa mattina andiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano e apriamo con la Repubblica 15 anni per rinascere Mamacron dice ce la faremo in 5 questa catastrofe deve unirci donato quasi un miliardo in poche ore ed è appunto questo che vorrei farvi notare l'importanza delle donazioni proprio per questa struttura una struttura che rappresenta proprio un momento forte di arte e soprattutto di congiunzione da ogni punto della terra e il dispiacere di tutti per quanto in realtà è accaduto e adesso ci fermiamo un momento vi lascio qualche attimo di pubblicità ma non andate via perché ritorniamo subito dopo di pubblicità Grazie a tutti. 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 non può fermare, insomma bisogna prestare più attenzione e soprattutto andare a vedere effettivamente che cosa si può fare per preservare il tutto e soprattutto l'Italia da questa vicenda. Ancora vediamo le testate nazionali, ci spostiamo sul mattino e partiamo dall'alto, la prima, la sexy butterfly di Otpetech seduce il San Carlo dei VIP e intanto fuori dalla Champions, Ronaldo non basta, la Juve eliminata dai ragazzi dell'Ajax. E intanto vediamo anche qui il giallo a Notre Dame, allarme ignorato, soccorsi lenti e impalcatura senza controlli. Il reportage Follia Ballier e questa è quella che viene definita la vendetta di Allah. Insomma quello che appare nell'account Facebook di Al Jazeera c'è chi scrive che la vendetta di Allah è solo uno dei tanti messaggi postati dai francesi musulmani per lo più abitanti appunto del Ballier. E ancora le interviste del mattino, il trauma che può far bene a tutta l'Europa, adesso mi aspetto una mobilitazione come per l'alluvione di Firenze del 66 e intanto Macron dice ricostruiamo in cinque anni la grande era ovviamente ridimensionata, ora che i fuochi si sono spenti parliamone. L'altro ieri avevamo tutto il cuore in gole, le lacrime e gli occhi, Notre Dame intanto bruciava e anche da qui l'allarme, quelle chiese trascurate mentre l'incendio cominciava a svilupparsi il mondo intero è stato informato che Notre Dame di Parigi appartiene allo Stato francese e non alla chiesa. E intanto la storia che dice che rinascerà il presidente Macron a poche ore dal terribile incendio sul sagrato della cattedrale di Notre Dame di Parigi ha detto qualcosa di noi sta bruciando stasera. E infine vediamo una tragedia per noi, ma è assurdo fare paragoni con l'eccidio dell'11 settembre. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo di nuovo in Italia, cantieri e crescita, stop del colle ai decreti, Mattarella, Conte, troppi cambi, emergenza migranti e Libia, scontro tra i ministri Salvini e Trenta. Intanto l'analisi tutti i rischi dell'economia elettorale, infatti il quadro economico del nostro paese delinea una situazione in evidente sofferenza. È su questo che siamo tutti d'accordo, così come lo siamo più o meno, anche nell'individuarne le ragioni. E insomma i soffocanti parametri europei da rispettare il gigantesco debito pubblico, l'elevata pressione fiscale e la massiccia evasione fiscale e contributiva, e inoltre la bassa produttività e l'esasperante burocrazia, solamente per citarne alcuni che sono quelli più evidenti e che soprattutto sono sotto gli occhi di tutti. E ancora inchiesta sanità, scandalo Umbria, Marini si dimette per difendersi. Si è dimessa infatti la Presidente della Regione Umbria, la Dem Catiuscia Marini, indagata nell'inchiesta della Procura di Perugia su alcuni concorsi per assunzioni che sarebbero stati pilotati all'ospedale del capoluogo Umbra. Umbro sono una persona per bene, ha scritto nella sua lettera. Ho sempre fatto l'interesse generale, la decisione per avere la libertà di dimostrare la mia correttezza come persona e anche come amministratore pubblico. Ed ancora vediamo nella parte bassa della pagina, cambiamo proprio argomento, l'inedito alla lettera del 1991 del premio Oscar, caro Troisi, sono Sorrentino, mi aiuti a fare cinema con lei. Infatti viene pubblicata proprio questa lettera che Sorrentino scrisse nel 1991 a Troisi, esposta alla mostra romana che ricorda i 25 anni dalla morte dell'artista. Inizia proprio così, gentile signor Troisi, mi chiamo Paolo Sorrentino, ho 21 anni e sono nato a Napoli, abito al Vomero. Ho fatto il liceo classico e studio economia e commercio. Mi piace l'economia teorica ma allo stesso tempo sono un appassionato di cinema. L'anno scorso ho frequentato un corso di sceneggiatura svoltosi a Napoli e tenuto dal Maurizio Fiume. Successivamente ho scritto in collaborazione con le altre due persone una sceneggiatura. A luglio ho lavorato in qualità di assistente alla regia sul set del film Ladri Futuro di Enzo De Caro. Ero andato a Roma con molto entusiasmo ma poi sono rimasto abbastanza sconcertato per il clima di freddezza e attenzione della non umiltà che si viveva appunto sul set. Insomma questa è una chicca particolare che rappresenta un momento importante proprio per il cinema e che evoca il ricordo proprio di Massimo Troisi abbinato a una figura importante come appunto Sorrentino. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Noi ci spostiamo adesso su il manifesto e nella parte alta della pagina si parla di Cucchi, le scuse del carabiniere pentito. Il super testimone imputato Francesco Tedesco è l'aria, dice mi dispiace. Libera intanto contro il decreto sicurezza il virus nei beni confiscati alle mafie. Nella parte centrale della pagina battaglia navale. E sembra proprio questo il rapporto che lega Matteo Salvini con il ministro Trenta, proprio uno scontro attivo che ricorda proprio questa battaglia navale. Una direttiva di Salvini per fermare la nuova missione della nave Mare Ionio tira in ballo i vertici della difesa che reagiscono, sono cose da regime. Noi rispondiamo al capo dello Stato, va all'attacco anche la ministra Trenta che definisce vaneggiamenti, quelli del leghista e il nuovo scontro tra alleati di governo preoccupa intanto il Quirinale. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo ancora sulle testate nazionali ed andiamo a vedere che cosa racconta questa mattina la stampa. Ecco, anche qui in primo piano Notre Dame risorgerà in cinque anni, fiamme e speranze e le ferite di Parigi. E intanto nella parte centrale della pagina, il monito sulla crescita di Mattarella, la marina contro Salvini sulla direttiva migranti, invasione di campo, il leader leghista, circolare e doverosa. E intanto il Quirinale convoca il premier, sbloccate i decreti per PIL e Cantieri e Conte subito il Consiglio dei Ministri. Intanto l'obiettivo è quello di riqualificare il lavoro e infatti è su questo che punta proprio Mattarella che convoca Conte al Quirinale e chiede un'accelerazione che sblocchi i decreti per i cantieri. E ancora Umbria, si è dimessa la governatrice Marini, terremoto nel PD e da Forza Italia arrivano le accuse a Maracarfagna. Golpe anti Berlusconi. E ancora ci spostiamo sulle altre testate, vediamo che cosa racconta questa mattina il Sole 24 Ore. Banca Italia, lo spread, taglia il PIL dello 0,7% nei prossimi tre anni. E l'economia è ferma, questa è l'analisi che viene fatta proprio dal Sole 24 Ore, mentre l'economia è ferma, purtroppo le tasse no. E intanto nella parte più bassa, faccia a faccia Conte Mattarella, i decreti crescita tornano in Consiglio dei Ministri. Sblocca cantieri già domani. E intanto nella parte centrale vediamo una fotonotizia, scioperi contro il governo che crea e cerca nuovi consensi. La Polonia sforbica 2,5 miliardi di tasse e quindi le persone scendono in piazza. Intanto speculazione record sulla volatilità. E a piazza Affari, in ex inciampa al debutto, Bertoluzzo percorso ancora lungo. E infine, sempre in questa parte bassa della pagina, il Premier, il dossier all'Italia, Atlantia e in Sardegna. E in Ritali, futuro in bilico per la base storica di Olbia. E ancora continuiamo proprio sui temi dell'economia. Con Italia oggi, Roberto D'Agostino, fino al 26 maggio non succederà nulla. Dopo però si apriranno scenari da brevido. E intanto forfettare il fisco regala un anno, 12 mesi nel regime agevolato anche in presenza di cause ostative, proprietà di quote contro di controllo di SRL, per via delle incertezze interpretative della normativa. Insomma, ancora in bilico proprio per quanto riguarda questa normativa e soprattutto per quanto riguarda le nuove tasse. E soprattutto, attenzione ai vostri conti, state in guardia. Soprattutto vincolate il vostro fisco. E ancora vediamo l'Unione Europea è più facile il riconoscimento delle qualifiche professionali, intanto tassata all'area demaniale, che ospita attività imprenditoriali, intanto per rider e tirocinanti, formazione e niente esclusività. E nella parte centrale della pagina, l'Utwok, tagliamo i soldati del Kosovo e Afghanistan e mandiamoli in Libia. E Macron intanto è furibondo, svelato infatti il suo piano per le DF. E nella parte bassa della pagina, pensate un po' a un fenomeno tutto italiano, 31 milioni di adulti che consumano merendine. Insomma, in primo piano questa notizia, che sembra essere così esaltante, ma in realtà altro non è che il racconto di quello che la pubblicità fa sulle nostre anime. Ossia, determina quello che ci piace o no, insomma, veicola i nostri gusti verso qualcosa che probabilmente non è proprio così piacevole. Insomma, questo racconta questa prima pagina di questo quotidiano, ma adesso ci spostiamo e andiamo a vedere che cosa accade nel mondo sportivo, dove è successa l'apocalisse secondo Corriere dello Sport. Juve fuori dalla Champions, ossessione infinita, segna Ronaldo, poi il crollo. L'Ajax rimonta con Van de Beek e De Ligt, 1-2, Agnelli avanti con Allegri. Eccolo qua, vediamo un Ronaldo disperato e ancora, vediamo nella parte bassa della pagina, ancora Chaos Milan, no prova TV, De Rossi sicura come CR7. Ed i firagenti contro la FIGC, CF Vara le regole per i procuratori che non ci stanno. Intanto a Parigi lo scudetto più amato. Ancora vediamo sempre la parte sportiva, grande Ajax, titola proprio così tutto sport, giusto così Allegri, io resto. Dopo il vantaggio di CR7, la Juve crolla clamorosamente, pareggia subito Van de Beek, poi fantastica ripresa dei lancieri, De Ligt condanna i bianconeri, anche Agnelli conferma il tecnico, ma ora ci vorrà un mercato super con gli olandesi in semifinale, Champions anche per il Barca. E intanto nella parte bassa della pagina, dai rati a Banti, Toro, i soliti nomi e i soliti torti, e questo è il caso arbitri, errori a ripetizioni. E ancora Sonego vittoria da autentico Granata, Cech che rimonta. E ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano proprio nelle testate nazionali, ma prima di spostarci proprio su quelle testate online che riguardano la legione campagna, voglio farvi vedere una nuova rubrica proprio di Repubblica, che è la prima cosa bella, ossia una pagina tutta dedicata alle cose belle che ancora ci circondano. E questa mattina si concentra appunto su Notre Dame, per questo ve la volevo far vedere, visto che comunque siamo tutti sensibili a questa vicenda che ha coinvolto proprio la cattedrale francese. La prima cosa bella di mercoledì 17 aprile risale in realtà alla fine dell'Ottocento. È una serie di dipinti di Claude Monet, avente per oggetto unico la cattedrale Notre Dame di Rouen. E infatti vediamo proprio il dipinto. Monet la mise su tela per 48 volte nei diversi momenti della giornata. Tutti sono concordi nel dire che a interessarlo era l'effetto della luce sulla struttura. Penso volesse farci capire anche qualcos'altro. Quando Monet dipinge Notre Dame la chiesa, costruita nel IV secolo, ha già affrontato molte prove. Infatti nell'841 i vichinghi l'hanno data alle fiamme. Nel 1514 un incendio ha fatto crollare la guglia. Nel 1562 l'hanno saccheggiata i jugonotti. E nel 1683 una tempesta ha devastato la facciata e le torri. Poi la rivoluzione francese l'ha adibita a Finile e quando è tornata la sua funzione originaria Zotto dice altro fulmine sulla guglia nel 1822. Dopo Monet verrà il 900 e ci saranno i bombardamenti nel 1940. Sette siluri nel 1944 e un'altra tempesta nel 1999. Siamo nel 2019 e un'altra tempesta si abbatte proprio su questa cattedrale che sembra però voler rinascere ogni volta. Io mi fermo qui per questa prima parte della rassegna stampa. Vi faccio vedere un'ultima volta quest'immagine della prima cosa bella che abbiamo visto proprio adesso. Mi faccio accompagnare dal mio tecnico, ecco qua. E che ringrazio per la collaborazione veramente importante. E soprattutto su questa immagine vi do appuntamento a fra qualche istante perché vi mando un attimo di pubblicità ma poi ritorniamo subito dopo e continuiamo a vedere i fatti della regione campagna. E che ringrazio per la regione campagna. E che ringrazio per la regione campagna. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus. Un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Come vi avevo promesso, pochi istanti di pubblicità e di nuovo qui in studio per vedere i fatti che ci riguardano più da vicino. Cominciamo proprio a vedere che cosa accade per le europee proprio in campagna. E vediamo che a parlare il rettore dell'università di Salerno che dice io figlio di comunisti sto con Salvini, sui migranti nessun imbarazzo. E infatti vediamo che il rettore Aurelio Tomasetti stavolta è candidato davvero ma con la Lega. E la domanda era proprio questo, ma non era figlio di comunisti. E lui risponde cominciamo male ed è una giornata intensa. Non è l'ideale per un'intervista, occorre organizzarsi e costruire la campagna, non è semplice. Anche se partirò con ogni entusiasmo e andando oltre gli steccati, appunto, dice questo per quanto riguarda la sua candidatura. E ancora vediamo la cultura proprio sulle pagine della Repubblica. E si parla della madama Butterfly firmata Ferzan Oztvetek al San Carlo tra poesia e sensualità. E infatti l'abbiamo già vista in apertura delle testate nazionali. Questo rappresenta un momento importante proprio per la cultura campana. E vediamo infatti premier VIP con in sala il ministro Sergio Costa. Teatro esaurito in ogni ordine di posti, pareri in prevalenza positivi da parte del pubblico. Al termine del primo atto della madama Butterfly firmata appunto Ferzan Oztvetek con Gabriele Ferro sul podio. Chi si aspettava una Butterfly svelata ha visto un allestimento poetico. La scena in cui i due protagonisti, Cho Cho San e Pinkerton, fanno l'amore sul proscenio ha visto, sì, cadere le vesti. Ma i segni alle spalle dei due cantanti, Evgenia Muravera e Samir Pirgu, si sono mostrati appena disfuggite. Per qualche abbonato storico si è trattato di una scelta un po' fuori dai cliché dei tradizionali allestimenti dell'opera di Puccini. Tutto qui, insomma, si aspettava qualcosa di più ma alla fine è stato tutto ancora una volta velato. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Parliamo di un qualcosa che riguarda le pizzerie storiche di Napoli che firmano un patto civico contro il Raketa. Quanto pare le pizzerie napoletane non ci stanno più e adesso si va oltre. E infatti sono state le pizzerie ad essere al centro delle cronache che segnalavano una recrudescenza del fenomeno del Raketa come la bomba al locale di Sorbillo, spari nella notte contro la pizzeria di Matteo ed è proprio dalle associazioni che hanno avviato l'iniziativa per fare dell'arte dei pizzaioli patrimonio immateriale dell'umanità che riparte l'impegno culturale e civico anti-Raketa. Si è svolto ieri infatti un incontro presso l'Assessorato alla Cultura e al Turismo con la partecipazione della Fondazione Univerde, titolare del logo con il presidente Pecoraro Scani e l'associazione intendono svolgere un ruolo attivo per sensibilizzare gli aderenti ai contenuti del patto e dar vita ad un programma che ribadisca che l'arte dei pizzaioli è fondata sui valori della trasparenza e della legalità. E ancora continuiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano. Ci spostiamo adesso su Il Mattino e vediamo che si parla ancora una volta dell'evento, del fatto di cronaca nera compiuto proprio all'interno, che si è svolto proprio all'interno della Circo Unvesuviano. Mano sulla spalla e conati di vomito. Ecco tutto il video del caso Circo Unvesuviano. E infatti sì, d'accordo, non c'è tensione drammatica in quei passi un po' barcollanti e indecisi di quella ragazza. Si d'accordo, nessuno l'ha spinta con forza nell'ascensore dove consuma tre rapporti sessuali con tre ventenni, ma la scena è tutt'altro che pacifica, amichevole, tenera o affettuosa. Se il video estratto dall'impianto di sorveglianza da Circo Unvesuviano è un punto decisivo nel processo, allora tanto vale raccontarlo nei minimi particolari, con sguardo neutro, scevro, si spera, da suggestioni e condizionamenti emotivi. Un video che il Mattino ricostruisce nel rispetto di quello che resta della privacy della 24enne di Portici che ha denunciato lo stupro a partire dalla sua sequenza madre, quella che ha spinto gli inquirenti a chiedere e ottenere gli arresti al GIP Valeria Montesarchio e che ha invece convinto i giudici del riesame a rimettere in libertà Sbrescia, Borrelli e Cozzorino con tante scuse per il disturbo. Tutta l'attenzione in quel sovrappasso della Circo Unvesuviana, acciaio, vetro e plexiglass che quotidianamente restituisce al Comune di San Giorgio a Cremano migliaia di passeggeri che fanno il ritorno da Napoli. Insomma adesso la Procura sembra non essere più d'accordo con quanto fatto dai giudici finora e la realtà appare proprio differente. Ancora però ci spostiamo in attesa che comunque ci siano altri aggiornamenti proprio su questa vicenda ci spostiamo sulle pagine del Mattino e vediamo un'altra notizia, quindi cambiamo proprio genere partito, zuppa di cozze, Napoli divisa tra due riti. Infatti cozze, freseline, olio rosso ed Europa League. Quest'anno nella zuppa del giovedì santo c'è un ingrediente in più, il pallone siede nelle tavole dei dodici apostoli dove i piedi si lavano prima di indossare gli scarpini chiodati. Proiezione partita e zuppa di cozze annunciano i cartelloni pubblicitari, impossibile scegliere tradizione o calcio, tutte e due rispetteremo come ogni anno la sacralità della zuppa di cozze nella speranza che ci regali un sogno. Insomma, questo dicono i napoletani e questo fanno, ossia fanno rivivere la tradizione ma senza abbandonare mai il calcio. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Continuiamo sempre da il mattino. Il nome del commissario a parlare, il ministro Grillo, rilancia ma la Lega resiste. Resta ancora da convincere il vice ministro dell'economia Massimo Gheravaglia che ha la delega sulla finanza regionale e quindi l'ultima parola sul Fondo Sanitario Nazionale, ma Giulia Grillo ha deciso di accelerare sulla nomina del nuovo commissario della sanità togliendo la carica Vincenzo De Luca. Ieri via Facebook ha fatto sapere di aver inviato al Ministero della Finanza il nominativo del nuovo commissario per nominarlo nel prossimo Consiglio dei Ministri e si tratta di Enrico Desideri, ex manager dell'ASD di Arezzo e sottolineano da Viale Trastevere, tecnico vicino al PD Renziano e non ai 5 Stelle. Di diverse idee al vice ministro Garavaglia che ha parlamentari a lui vicini avrebbe spiegato che bisogna aspettare il prossimo monitoraggio di luglio e capire se la campagna deve restare sotto commissariamento o meno. Nei giorni scorsi da fronte pentastrellato lo hanno accusato di aver aperto a De Luca per ottenere il via libero della campagna al federalismo differenziato, un'accusa che non è piaciuta al numero 2 del MEFA. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, questa volta però andiamo a vedere che cosa accade nella provincia di Caserta, un fatto che riguarda la politica marcianisana, mi mandano a casa a parlare il primo cittadino di Marcianise, Antonello Velardi, ma me ne vado con orgoglio, il sindaco rompe il silenzio con un posto d'addio. E vediamo infatti che il sindaco di Marcianise ha i titoli di coda, parrebbe proprio di sì visto il lungo messaggio che Antonello Velardi ha lanciato nel pomeriggio tramite la sua pagina Facebook e lo fa per la prima volta da quando è iniziata la crisi col Partito Democratico che da tempo minaccia di non votare il bilancio di previsione se non verrà emendato con alcuni accorgimenti richiesti ma non accettati dal sindaco. Cari concittadini, scrive il sindaco, sono ore decisive per il futuro dell'amministrazione comunale di Marcianise, ancora pochi giorni e mi manderanno a casa. Me ne vado con molto orgoglio e con la coscienza pulita, certo di aver finora amministrato solo ed esclusivamente nell'interesse della città. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo sulla cronaca, ritorniamo sui fatti di Casa Pesenna, lo sfogo della vittima di Don Barone mi è crollato il mondo addosso, in aula le locandiere della quattordicenne elogiano i sacerdote, lo stiamo aspettando e intanto vediamo che cosa dice proprio lei, le locandiere della ragazzina ai 14 anni di Maddaloni, maltrattata da Don Michele Barone perché ritenuta posseduta dal demonio, sfilano davanti al giudice. È cominciato dalle due donne, madre e figlia di San Marcellino, l'elenco dei testimoni della difesa del sacerdote del tempio di Casa Pesenna, chiamati per confutare l'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ragazzina, oltre che di violenza sessuale nei confronti di altre due seguaci del suo gruppo di preghiera finito alla sbarra insieme al dirigente del commissariato di Maddaloni Luigi Schettino e dei genitori della ragazzina. La più giovane delle due donne ha parlato di essersi dedicata alle cure della quattordicenne nella sua casa di San Marcellino dove venne trasferito l'intero nucleo familiare maddalonese per avvicinarsi al gruppo di preghiera a partire dal settembre 2017 e spesso, secondo il racconto della ragazza, la quattordicenne sarebbe stata in preda a momenti di possessione demoniaca, dimostrando una forza sorumana che necessitava di un intervento più energico per evitare che si potesse far male o che potesse farne ad altri, confermato anche il regime alimentare a base di latti e biscotti ovviamente come prescritto, secondo le parole di Don Barone, direttamente da un angelo. Insomma, una vicenda che ha ancora tanti riscontri e tante ovviamente vicissitudini che verranno raccontate ancora in giudizio e che comunque ci terranno ancora vigili, soprattutto per questa vicenda. Ancora ci spostiamo su Caserta Focus, andiamo a vedere la parte politica di questo quotidiano, via libera al bilancio di previsione, il vice sindaco Bove, stiamo parlando di Maddaloni, parte la nuova stagione della città con il via alle gare, Campolattano accende riflettori, ufficio unico delle entrate e crediti non riscossi. E infatti lo vediamo nell'immagine, continuiamo a vedere via libera al bilancio di previsione del comune di Maddaloni, 15 voti favorevoli, quelli della maggioranza, è stata infatti approvata la manovra predisposta dal sindaco Andrea De Filippo e dall'assessore Arramo Luigi Bove. Proprio il vice sindaco commenta con soddisfazione la votazione anche sotto il versante politico. E da questa testata ci spostiamo, continuiamo ancora a vedere i fatti in primo piano, andiamo a vedere proprio i fatti sportivi e lo facciamo con il Corriere di San Nicola e vediamo che il 2 giugno si svolgerà la diciassettesima maratonina. Pietro Maienza annuncia l'edizione 2019 del più grande avvenimento sportivo. San Nicolese, il presidente della società organizzatrice, infatti, ha annunciato anche che partenza e arrivo, come negli ultimi due anni, saranno in piazza parrocchia. La maratonina città di San Nicola la strada 2019 è intitolata per il terzo anno alla memoria dell'indimenticato Mario Mastrangeli. E vediamo proprio la locandina di questo evento, gara podistica a 10 km su strada e nel terzo memoria al proprio di Mario Mastrangeli. Ancora vediamo sempre per la parte sportiva, ci spostiamo, cambiamo proprio sport, ovviamente ci affidiamo per la conclusione di questa rassegna stampa al volley, volley femminile. E infatti oggi è un'importante giornata, una delle tante giornate importanti per la Golden Tulip Volato 2.0 Caserta del patron Nicola Turco. E vediamo infatti che stasera ci sarà un'ennesima grande sfida. Playoff mercoledì alle 20.30 a Palavignola, Golden Tulip Caserta contro Soverato. Pensate ancora una volta, il biglietto ha un euro. La Golden Tulip Volato 2.0 infatti vuole coinvolgere il mondo del volley, non solo casertano ma campano. Per tifare proprio mercoledì, ossia oggi alle 20.30 alla Golden Tulip Caserta. Biglietto d'ingresso 1 euro, prima partita di andata e poi ritorno per accedere alle semifinali. La società più di questo non può fare, non vada a niente pur di coinvolgere il pubblico per sostenere le atlete. Una bella realtà che con un massiccio pubblico può aiutare a fare salto di qualità. Un caffè, insomma, dicono dalla presidenza di questa squadra, e ti godi i playoff. E allora, in bocca al lupo per la squadra casertana del volley femminile, a voi tutti un grazie per essere stati con noi. Io termino qui anche questa rassegna stampa, vi do come sempre l'appuntamento a domani e prima di salutarvi ringrazio come ogni giorno Tecnocampus che ci offre la possibilità di fornirvi l'informazione a 360 gradi su tutti i fatti in primo piano. A voi tutti l'augurio di una buona giornata e ci vediamo domani. A voi tutti i fatti in primo piano. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.